In questa puntata di Le Fonti Fast Finance andremo ad approfondire e spiegare tre concetti che sono subentrati nella nostra quotidianità e questi tre concetti sono cashback, cashless e lotteria degli scontrini. Però attenzione perché per far questo occorre munirsi di tre cose, di un quaderno, di una penna e di un evidenziatore proprio per segnarci le cose più importanti perché ce ne sono tantissime. Partiamo dalla prima parola che è cashback e andiamo a vedere di cosa si tratta. Seguiamo insieme, è uno strumento introdotto dalla legge di bilancio 2020 finalizzato a incentivare i pagamenti attraverso strumenti elettronici. Il cashback consiste fondamentalmente in un rimborso in denaro destinato alle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici. L'adesione a questo programma è naturalmente su base volontaria, però se decidiamo di aderire dobbiamo registrarci nella app IO o nei sistemi messi a disposizione da un soggetto convenzionato. Bisogna fornire il codice fiscale, gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici dei quali si intende avvalersi per effettuare i nostri acquisti e attenzione perché la partecipazione al programma ha inizio nel momento in cui si effettua la prima transazione. Cosa succede? Dal 1 gennaio 2021 gli aderenti al programma che abbiano effettuato un minimo di 50 transazioni a semestre con naturalmente strumenti tracciabili è attribuito un rimborso in misura percentuale per ogni transazione. Questo rimborso è sempre pari al 10%. Andiamo avanti perché il cashback è inserito in realtà in un programma più ampio che è il piano cashless. Ecco il secondo contributo che è il piano lanciato dal governo al fine di incentivare proprio la diffusione dei pagamenti digitali in Italia, la tracciabilità delle operazioni al fine di contrastare l'evasione fiscale. Questo è l'obiettivo ultimo. Le misure pilastro di questo piano sono 5. Quella che abbiamo già spiegato, il cashback, la lotteria degli scontrini che andremo a spiegare tra poco, il credito di imposta del 30% delle commissioni, la subordinazione delle agevolazioni fiscali esistenti, tranne attenzione a quelle legate ad acquisti in farmacia, a pagamenti elettronici e poi il tetto di 2.000 euro, l'uso del contante. A partire dallo scorso 1 luglio, questo lo sappiamo già, attenzione perché c'è una previsione di tetto di 1.000 euro a partire invece dal 1 gennaio 2022 e questo è il piano cashless. Andiamo a vedere invece cos'è la lotteria degli scontrini. Come dice la parola stessa è una vera e propria lotteria gratuita collegata agli acquisti effettuati, questo lo riperdiamo continuamente e segniamocela perché è una parola chiave senza contanti, utilizzando quindi strumenti di pagamento elettronico. Che cosa succede? Dal mese di dicembre 2020 i cittadini maggiorenni e residenti in Italia potranno partecipare alla lotteria, naturalmente su base volontaria, facendo acquisti con strumenti di pagamento elettronico, questa è sempre la base. Bisogna procurarsi sull'apposita piattaforma online lotteriadegliscontrini.gov.it il proprio codice lotteria. Poi cosa succede? Quando faremo un acquisto in un negozio dobbiamo mostrare questo codice all'esercente, al momento dell'acquisto cashless. Lo scontrino regalerà dei biglietti virtuali per partecipare alla lotteria. Un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un massimo di mille biglietti virtuali per ogni scontrino di importo pari o superiore a mille euro. Andiamo a vedere a quanto ammontano questi premi. Sette premi, questo è il numero, da 5 mila euro per i vincitori delle estrazioni settimanali, 3 premi da 30 mila euro per i vincitori delle estrazioni mensili e un premio da 1 milione di euro per il vincitore dell'estrazione annuale. Lo abbiamo già accennato prima ma l'ultima domanda potrebbe essere questa. La partecipazione è obbligatoria? No, assolutamente no, sarà facoltativa. I consumatori che comunicheranno il codice al commerciante concorreranno alle estrazioni. E questo è Le Fonti Fast Finance. Vi aspetto alla prossima puntata.